Siamo nel giardino delle Camelie del Mann, Museo archeologico nazionale, dove da poco è stata posizionata quest'opera di arte contemporanea, Il sogno dell'eroe di Cristian Leperino, un'opera che fa riferimento a quella che è la tradizione antica, classica e moderna allo stesso tempo. Possiamo vedere l'immagine che si ispira da una parte alla Niche di Samotracia, con riferimento al volo di Icaro e il gesto del braccio alzato tipico dell'eroe moderno, dell'immagine che fa riferimento chiaramente all'eroe più moderno per i napoletani, cioè Diego Armando Maradona, con riferimento al pallone, al suo piede famoso e al gesto della vittoria che incarna il desiderio di tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.